ciao a tutti ragazzi siamo a milano ai magazzini generali una tappa importantissima del mio viaggio penso che ci divertiremo molto facciamoci un giro dentro ho scelto di realizzare questo video perché penso che tutti i momenti che sto vivendo questi anni sia importante condividerli con voi in una sorta di diario stasera siamo di qua di nuovo a milano ai magazzini è una serata importantissima per me dopo i tanti appuntamenti avvenuti in questi ultimi mesi dalla russia alla germania al belgio l'olanda tutte le città è la seconda volta che ho il piacere di suonare in questo club storico di milano e sicuramente ci sarà un'altra nuova occasione per ritrovarci tutti qua insieme perché ci tengo veramente molto a tornare qua ci terrei ringraziare tutta l'organizzazione tra tra cui le pubbliche relazioni la direzione artistica insomma tutti quanti per la serata è stata pienissima sold out sono entrato nel locale a mezzanotte era già completamente pieno e il pubblico ha risposto benissimo è stata veramente magnifica e ho trovato una bellissima atmosfera ci tengo a precisare che ci saranno nuovi appuntamenti anche magazzini generali il prossimo anno sarò per la prima volta a bologna al cassero il 28 dicembre il 29 dicembre farò la mia prima volta al tenax di firenze un altro club importantissimo della scena underground italiana il 30 avrò il piacere di suonare per la seconda volta con i ragazzi del barracud questa volta a budapest bellissimo parti di fine anno per il prossimo anno ci sarà il mio album su truia beat l'album etichetta che sto portando avanti col mio socio luca agnelli e insieme all'album ci saranno una serie di appuntamenti con i quali ci rivedremo insieme per divertirci tutti quanti ci vediamo in giro nei locali ciao ciao oh ma ancora qui siete grazie 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 a tutti.